Al meglio, questa serata e questo martedì diamo il via alla schilata della prima selezione 2013 di Levi Trotto Con il numero uno, a vent'anni, arriva da Riva Bella, ma è originaria dell'Argentina, Elisabeth Veronelli Ve lo ricordiamo con il numero uno, a vent'anni, arriva da Riva Bella, Elisabeth Veronelli Accompagniamo le ragazze con un carroso applauso per favore, voglio sentire le mani dell'ipodromo del stadio che si muovono Con il numero due, arriva da Rimini, a venticinque anni, si chiama Valentina Sabino La vediamo sul nostro palco, venticinque anni, da Rimini, Valentina, Sabino Con il numero due, a diciannove anni, originaria del Marocco, ma vive al Cesenatico, Ikram Shaker Con il numero due, Ikram Shaker Con il numero due, Ikram Shaker Alina Bandiru Passa il suo numero quattro per Alina Bandiru La prossima concorrente con il numero cinque, Lady Proto 2013, Diana Saociu, dician sette anni, di Cesenatico Con il numero cinque, il marco è suo, Diana Saociu Si accinge a percorrere il tappeto rosso con il numero sei, ha ventiquattro anni e vive a Forlì, Raluca Tripp La possiamo mirare nel suo splendore con il numero sei, Raluca Tripp Con il numero sei, Raluca Tripp Ho l'ho, propo l'ho Un'altra concorrente con il numero 7, 17 anni, arriva da Born in Populi, Ilaria Briccolani Il numero 7, Ilaria Briccolani L'ultima concorrente di questa notte, la prima selezione di Letitotto, con il numero 8, si accinge a percorrere il tappeto rosso, Elisa Saveri Con il numero 8, 22 anni, arriva da Castel Maggiore, Elisa Saveri Accolte da un grandissimo applauso dell'Impodromo del Stadio, le rivediamo tutte e otto insieme Per votarne i loro numeri, la 1, Elisabetta Beronelli Con il numero 2, le mani continuano ad applaudire Valentina Saveri Con il numero 3, e continuano ancora le vostre mani, Ikram Shaker Con il numero 4, Alina Fantinuto